Per Mipel TV buon pomeriggio, ci troviamo in compagnia di Vincenzo di Ogon. Vincenzo ci parlerà della filosofia aziendale che sta dietro a questa azienda. Per noi il Mipel, che per la Ogon, è molto importante perché soprattutto il Mipel è l'appuntamento annuale dove ci deve essere per la peletteria e dunque anche per noi che siamo una dita che fa della peletteria alternativa, cioè fatta in alluminio. Perfetto, ci puoi spiegare più in dettaglio cosa significa questa peletteria alternativa in alluminio? Praticamente, forse puoi filmare qua, tutto il concetto è questo. Ogon, che è questo, questo segno qui. Ogon, che è un concetto sferese nato dieci anni fa, vuol dire gli occhi. Cioè il concetto è vedere tutto in un'occhiata, direttamente. Per dire un po' di più, per parlare un po' di più sulla gamma, su ciò che facciamo da dieci anni, abbiamo cominciato dieci anni fa con questo modello molto classico, che adesso si trova un po' dappertutto. E di po' in po' l'abbiamo sviluppato in questo modello più grande, più adattato a un altro usaggio, con più diverse carte. E di poi in poi abbiamo anche inventato, questo è un prodotto proprio nostro, il portamonete euro. Questo è il primo portamonete, completamente alluminio, dove si può mettere 20 euro, che è molto pratico, specialmente in questo tempo di crisi. Cioè le monete servono. Poi abbiamo provato a fare una gamma, che è la Quilted, cioè in italiano, scusatemi, che è trapuntata. Cioè siamo i primi nel mondo a fare l'alluminio trapuntato. E cioè nella stessa logica abbiamo fatto quello prima prodotto, che è un po' lo stesso dell'originale, ma in un modo trapuntato, poi per farlo passi a passi, in un modo più femminile, con lo zip, al formato sempre cartoline, per alla fine andare al formato passaporto. Questo è che è il formato passaporto europeo. In questa gamma di Quilted abbiamo anche quest'anno, presentiamo, questa borsetta qua, al formato clutch, che è un bellissimo prodotto, bellino, eh? Che si può portare, che è livrato con due catenini, cioè si può portare alla mano oppure in spalla. E finalmente, per finire, abbiamo quest'anno, presentiamo, ed siamo molto felici, due, cioè un prodotto, una nuova gamma, che è il sempre prodotto, che è quello storico, è il Stockholm versione 2. Questo qui è un totto nuovo design, è molto più robusto, nuovo chassis, giunto completo, cioè a stagana ferma, può andare in acqua questo, cioè non c'è polvere, sabbia, niente che va dentro. Un prodotto molto robusto, proprio indestruttibile, anche perché il fermaglio è metallico. Cioè, questo è un bellissimo prodotto, che va venduto tra più o meno 39 e 40 euro in preso pubblico, e l'abbiamo anche sviluppato, aspettate che lo trovo, in fibra di carbonio. Questo è il stesso prodotto, cioè totalmente nuovo, fermaglio metallico, e quello lì è proprio indestruttibile. Per autentica fibra di carbonio. Ecco qua, era più o meno la nostra storia, ciò che facciamo adesso, e speriamo che avete adesso tutta voglia di avere un prodotto Ogon. Mi sembra che sei stato più che esauriente e dettagliato nella tua descrizione. Io ti faccio tanti auguri per il tuo futuro, per la tua azienda, e spero di rivederti la prossima volta in Mipel. Ma certo, ci saremo. Ciao, grazie. 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 Grazie.